...quindi, qui mi sono con amici, sono pure partecipato a qualche manifestazione di un libro, questo era un libro. E poi a Massa Lorenzo, in cui ho ammigrato tutti i due romanzi, la curva Massa Lorenze, la vocema di Dio Anisio, e l'ultima, è un libro di un futuro romanzo, che sono qui nel vostro senso. Per quanto riguarda questo libro, devo dire che è andato, diciamo, che è andato, perché ogni volta che il libro romanzo ci consente diventere delle porte della revista, perché, lo so, delle reviste, soprattutto quello di quando conoscete un po' la storia, e le storie della revista Sardegna. Conoscevo Salvatore e la Rafforazione da tanti anni, in siena che abbiamo sempre accumulato giornali, fotografie e reviste, secondo me è inutile vivere qualcosa nel cassetto. Gli viene qualcosa di un bello, perché questo divina di ultimo viene nascosto, per me è da studi, perché non c'è qualcosa di un bello che prendere, ma attricità anche in alto, un po' di venire. Se io ne vedi un'immunica scuola posta e va a sua detta, certamente non stai in una condizione che ci portiamo a lasciare. E il libro come è andato? Io, sapendo che è anche Salvatore, questa passione di Salvatore, noi cerchiamo di fare un certo studio, una certa scelta del nostro materiale. E' logico, se avessero dovuto mettere insieme i documenti, le cartoline, le cartoline, le cartoline e le cartoline, allora a proposito di indicarci le cartoline, che ci sono i documenti, infatti il volume, come abbiamo visto ci sta una delle storie, le cartoline in strada, e poi il gruppo, ci sta una macchina di scopo, per far capire un eventuale viaggio a un mio punto di vista, come un po' delle cose principali per il gruppo. E' un viaggio da frequenza e da massacronovenza. Verità, inizio, vedremo le immagini di Salvatore, un'immagine di Tumila, e allora si facciamo una cosa, mettiamo la vita a massa, e poi facciamo una passeggiata, come se come giù dal futuro, infatti, di una volta, e poi il progettivo del resto, che si stanno facendo. Ricordate sempre, ricordate sempre, che vennerà dal futuro, è portato a un istituto pubblico, con un momento che chiamano, magari con un po' di nostra docena, però, vedendo queste immagini, noi lo facciamo come è cambiata al nostro amico, con il nostro panorama, siamo andati con me, li abbiamo chiesto con noi, ma dobbiamo amare naturalmente, che forse prima, la nostra amministra, che era appunto più bella, alcuna, di un po' 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 di un po'. Io l'avevo insinato come la persona. Certo, adesso è buona, che è un po' di 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 un po'. Io per esempio, per esempio il mio lavoro è venutile, sono stati tanti, tanti voi, sono solo avronomi, e mi sono detto, che molto spesso, noi non conosciamo assolutamente, ciò che stiamo succedendo. Qualche esempio, in un anno di San Bernardo, ci sono alcuni due soldi, ci sono i medici, con i due soldi, la pugna e la nata, che sono stati... Per esempio, per esempio, che sta rafforzando, un contendo, in una viata sanguinometta, di cui il... il movimento, gli abitanti, si dividono in due categorie, una riguarda al progresso, ed una potenza riguarda ad una generazione. raggiungere un giusto esempio, e quello che dovrebbe essere, la maestria degli amministrati. Però, questo è importantissimo, ancora meglio, perché, ci permetterà, una cosa dire, come un attimo, il nostro pubblicato pubblico, o qualche domanda, per capire, dove sarà l'indirizzo, dove va, l'assetto politico di amministrati. Intanto, volevo aggiungere in cosa, quello che voi state dicendo, che vogliamo offrire. E, diciamo che qui, a Santa Raga, il signor Donato, e anche il convenzionista, e se, puntualmente, in ogni edizione, c'è riconosciuto, di un musicale. Perché, se andate a casa su qua, quasi, in un filo di istruzione, contigo e permanente, c'è stata, la musica classica, è bellissimo, trasferire le installazioni. Qui, in questa piazza, abbiamo avuto, dei grandissimi nomi. L'ultimo, quello che vi vedete subito, era un altro quadrino, con il suo, assetto di cantanti, e orchestra. Una, orchestra che vengono da fuori, e l'orchestra che vengono, dal San Carlo. Ma, comunque, nell'audienza di San Carlo, è molto più piacere, da avere, 20, lunghi anni, di conoscenze, di musica, diciamo, come è, quello che eravamo, si chiamata, la musica d'altro. Donato, dici quattro anni, un po' semplice. Io so, che tu, avete tutta, fatemi questo momento, so che, tu, avete tutta, è una scelta, è un programma, quindi vai a dire, un po' semplice, che, il nostro amore, è un po' semplice. È un po' semplice. Il nostro amore, Purtroppo, se c'è, con, con forza, di, presso tu, maestro, è un po' semplice, di, 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 eh, Si, in Italia, non è, no, e, non è, no, un po' semplice, no, di, no, non è, ma, il mio, è, intanto, a tutti, che, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.